Buongiorno a tutti cari amici, l'Olimpia Milano sbanca il Palau Braugà, insomma sbanca Barcellona, batte il Barcellona in casa sua 75-73, si conferma in quinta posizione in Eurolega, 11 vinte e 6 perse, insomma grande partita, meno male che non c'è stato il controsorpasso finale del Barça, prossimo impegno martedì 18 gennaio ore 20 e 30 al Forum di Assago contro l'Alba Berlino, che dire una grandissima vittoria, dai dai che anche quest'anno l'Olimpia va a sicure playoff e speriamo chissà anche alle Final Four, quindi Milano batte Barcellona a casa sua 75-73, grande vittoria e grande risultato, ciao!